eeeh bello a tutti ragazzi benvenuti a tutti io sono Jacopo Gamer e oggi siamo tornati su Roblox come tutte le volte oggi siamo in compagnia di due nuovi ospiti mio fratello salve mi conoscete già tutti e di Matteo salve papà come avete detto dal titolo del video oggi giocheremo a Piggy si esattamente Piggy e io devo mancappare questa shape hai trovato la chiave io ogni volta che vado in una stanza proprio c'è chiudo le porte ho il codice dai ho la chiave verde che non c'è Piki no 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 Piggy Piki Via 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 rum 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 ah ah cos'era no dai no no vado fuori con matte bello la tavola di cioccolato ma serva a me ma io l'ho inoltre qua c'è la chiave arancione matt prendi la chiave arancione qua dietro per il semi interrato aiuto mi sa che moriremo tutti si si io muovo molto in mente ci scommero no vai via 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 io me lo so rischiata tantissimo bravo che l'hai distratto a meno bravo che l'hai distratto aiuti chiave azzurra no vi prego il corsivo no oh chiave viola raga qualcuno ha la chiave arancione io seguimi io la chiave inglese no non sono preso no sono morto mi metto ragazzi che i miei visi tocano a piggy mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanella per non perdere nessuno i prossimi video e mi raccomando lasciate un bel mi piace e se questo video raggiungerà i non 5 ma ben 10 mi piace arriverà un nuovissimo video di roblox in compagno di matteo e di alberto bambini bambini fatti bravi ma perché vieni sempre di sopra sto in fama ti blocchi se no mi blocco aiuta dai ti prego no piggy Posso scappare da sta casa Ma quanto pare no Che rischia E non me la porta sotto Esatto Dai ragazzi ce la potete fare Vi manca la chiave bianca Guarda dove è venuta sta qui adesso Lei che goddo che lei chiusi la porta in faccia Da nulla Andate di sotto Devo andare di sotto Andate di sotto Nel semi interrato così potete spaccare il martello Piggy Stuck Facciamo così Vai è aperto il passato segreto No Alberto non fare il glitch Non si fanno i glitch Doppia glitch Doppia glitch Tutu du Tutu du Chi vincerà lo porta a Bologna A mangiare i tortellini bolognesi No no io non ci vengo Io non ci sarò nemmeno E se posso venire No no Matteo è per finta No 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 Si può essere i camperini di dieta Però porca miseria E' bloccata Siume E' bloccata Se la scarsa Ma l'ho insultata la poverina No sto cacchio No sto cacchio Raga la piede bianca la piede bianca veloce scappate scappate Ce l'ho Andiamo Ce la farò i nostri eroi Non è stato un po' E' stato molto facile Immagino Si si è stato facilissimo Ok Questa era una mappa facilissima ragazzi Ora passiamo alla mappa media Allora ragazzi Questa era una prova Era una mappa facilissima Ora passiamo alla mappa difficile E sarà l'ospedale Ce la farete Ce la faremo Comperare l'ospedale No ti scoppiamolo Ti prego no Ho messo la metro La metro e la mappa media Poi dopo passeremo alla città Che è la mappa più difficile Del capitale No ti prego Per me la più difficile E' la stazione La stazione Secondo me O la città o l'ospedale Perché sono molto grandi Sono molto oggetti da completare Ok mettiamo Traditore Ok dai mettiamo traditore Guarda qua raga Non combattiamo Ci uccidiamo E' ovvio che ci uccidiamo Siamo in un manicomio Ok Ok raga Via Si parte raga Si parte Adoro io Ok Raga non sono io Ok Ok Ciao Vanni Ciao Vanni Vanni e Vanni Bella Comunque ragazzi Se si scopri il traditore Qua in questo gioco Potete spararlo Il traditore Con la pistola Io sono un uomo Pistolera Sì sì Vero Pistolera Mia che la ragione Non è tua Mi dissocio Ah Ah god E' letta Lamborghini E' un po' fashion oggi eh Sì sì Lamborghini non c'è per caccia Nel video Non me la fa fregare Non è babbo Pezzo di imprimare Un social Intanto ragazzi Mi raccomando Potete anche seguirmi sui social Questo è il mio profilo di tiktok Seguitemi tutti Anche se ho pochi follower E anche su instagram Link Una moneta Ci sarà anche il link in descrizione Sono appena morto Sei diventato ricco Ti scherzi Raga sono appena morto Stavo spiegando Stai scherzi Sei deficiente Sei deficiente Sei un deficiente Sei un caccio No 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 Piki Via 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 Piki vai via Ovunque sia il traditore Uccidete Uccidete tutti Così almeno finiamo la partita Piki No dai ti prego Basta Non smettiti Grazie Spettiamo il nostro Matteo No no Sono io il traditore Secondo me sei tu Matte Non sono io Sei sicuro? Attenzione ragazzi Chi sarà il traditore Tra Matteo 1 7 0 8 1 3 E Vestalberto 3 4 57 Scopriamolo Aiuto Piki Piki aiuto Piki Dai perché mi segui a me? Di seguito a te Raga mi immaginate che alla fine Scopriamo anche a Jacopo No ma non è roviglia Non l'avrebbe detto Moletina Max è la moletina Sì Voglio dai Fondici pro Max Lo voglio tutto Dai veniamo Tutto è mi vita E forse È un luci pro Max Ma hai vita Ragazzi sono un po' lino Sì Sei un cacchio di fame Cos'ho appena visto Cos'ho appena visto Ok ragazzi Diciamo che ora si passa Alla modalità difficilissima La città Con due pigghi Allora la modalità sarà La città capitolo 9 Ok E la modalità Sarà esattamente La città Esattamente il tag Quindi ragazzi Se non sapete cos'è il tag Praticamente uno Resta in vita E tutti gli altri Sono pigghi Quindi diciamo che No ti prego Ce la faremo No No quella acqua è brutta Ti prego Ti prego Ok 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 bot Va bene Bot Bot Va bene Dai Bot Ci può anche star Eh Scusa Ok Buon Ti Taggo dove Io voglio mettere Tanto Ah ok Vabbò mettiamo bot Mettiamo bot Tutti i bot Tutti i bot Ok Bozzarella 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 apoletana Ragazzi Secondo me Secondo me Moriremo Anche secondo me Moriremo Però Basta morirci per primo Infatti Muoio sempre io Per primo Ragazzi È già la seconda volta Che muore per primo Esatto Stavo spiegando Pigghi Povero Ragazzi Sed Ci c'è Sarà tutto Oh Impegniamoci Questa volta Si trovano Per entrare Scappando Ad entrare Sono cadute le scale Aiuto Aiuto Ammazzati Mi raccomando Apriamo questa porta Tessera blu Non vi... Prego non parlare il corsivo Già mi sta sul K Mi dissocia Sputati l'erba Ok Piggy si è svegliata Piggy si è svegliata No, mi prenderò La cacca Ok guarda, tessera russa Ok ragazzi si è fermata Oddio Piggy Ragazzi c'è l'erba Venite a prender l'erba qui Non ci pensare neanche Ma che bella sta camera da legge ci dormirei Ma è l'erba Sì dell'erba non si mangia Pigliate l'erba Ma siamo io io Sì ma da dove sei sbucata Brutta ridicola Piggy o la nonna La nonnina Ho appena dato la carota A pori Oh la chiave è verde La carta verde Non è stato lo zizi Che gli devo dare l'erba Acqua sterile Deve fumare Zizi e dove c'è la macchina verde Color indifferenziato Ok vedi che bello Ma non c'è niente qua dai Apriamo la carta verde C'è Piggy No Aiuto Mi fai aprire la cassa Ok Allora abbiamo trovato la plank E la carta arancione Molto bella la carta arancione Io vi aiuto la fantasma Bella Non ti possiamo vedere Quale è il problema Non ti possiamo vedere Andiamo a vedere la carta arancione ragazzi Ciao Alde No 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 Via 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 Ian Man No raga Ragazzi sì Mi sentisce questo Ragazzi Solo io non ho mai visto la Piggy elefante Mai vista Vi giuro che mai vista Aiuto I miei fan possono confermare Che non hanno mai visto La piggy elefante Non si capisce niente Vedi che si sta muovendo Boh Non lo so si sta muovendo Uh dinamite Buona 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 dinamite Questa è molto utile Gigi Alberto è morto niente Sono rimasto da solo Ragazzi poi volete che metta i zizi Che miseria piggy maledetta Nel sedere di Giappo Cosa I zizi Ma perché Anche se poco fa mi riprende Ok ho trovato dove si mette la dinamite Piggy è dietro O piggy dietro aiuto Apriti veloce Maledetta piggy schifo Ragazzi io mi metto zizi Al punto di partenza No ragazzi Sono morto Dai No ma dai Sto stando zizi Lo volevo portare in casa No mi sto Sed La città è impossibile E niente ragazzi Il video ci può concludere qua Spero che Sì Ragazzi spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un bel mi piace Se questo video raggiungerà Arriverà a 10 mi piace Uscirà un nuovo video Detto questo Da io Alberto e Matteo Ciao Ciao Ciao